Un saluto a tutti e ben ritrovati di World225 nuovamente con la nostra campagna con la Savoia su Crusader Kings 2. Ma fatemi sapere se adesso con Shadowplay ci sono ancora quei fastidiosissimi frizzini, quelle fastidiosissime laggate che c'erano prima, dovrei aver risolto, ho fatto delle prove, dovrei aver risolto il tutto. Ci tengo molto che questi video vengono abbastanza bene per quanto possibile anche perché sul livello tattico ogni tanto fallisco ma è una serie a cui tengo particolarmente questa di Crusader Kings 2 quindi fatemi sapere se il video adesso è abbastanza buono. Comunque proseguiamo, eravamo arrivati con Duke Pierre II, il nostro terzo regnante che in un periodo di malattia poverino. No ho sbagliato il nostro Realm 3. Abbiamo comandato come Vittorio, comandato, regnato come Vittorio e come Pierre e adesso siamo arrivati con il nostro mitico Pierre II. Qua possiamo vedere tutti i nostri fedelissimi regnanti o duchi per meglio dire, ducanti. Comunque vediamo un po', non possiamo più mettere i successori di questo e mi fa cagare come cosa. Tu mi vuoi bene? Ok, però siamo a posto. Volevo vedere un attimo che mi servivano dei problemini di successione anche, ho visto guardato off video, perché il nostro figlio non viene sopporto da tutti, soprattutto da quello di Valois e Saint-Oise. E poi c'è Plaz che vota per Plaz e manca il voto di Verdun. Non possiamo dargli nulla. Maledizione, 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 maledizione. Allora direi comunque di spostare un po' l'omino qua che abbiamo. E' lui il nostro cancelliere, comunque se muore magari morisse. Se morisse anche lui, vorrei Vien. Prima prenderci Vien. Qua sta schematizzando, mandiamola a Saint-Oise a aumentare il Plot increase. Qua sta migliorando le relazioni. Lui sta ruolando troop, va bene così. Ok, velocizziamo. Verdun c'è stata la mitica battaglia della seconda guerra mondiale. Eccolo qua, lo sapevo io. Sapevo che sarebbe successo. Allora, giocheremo come nostro fratello. Chi stavamo cercando di uccidere qua? Comunque questo signorino qua. Il Conte di Saint-Oise. Ahah, il Conte di Saint-Oise, il Conte di Saint-Oise. Non mi piace giocare come Conte di... come mio fratello. Allora. Comunque ecco un'altra cosa bruttissima che ho guardato off video. E' che stanno votando... oh oh oh. No, è solo un rumor. E' nato un altro figlio che chiameremo come nostro padre, Vittorio. Mi piace. Ehm... Che stanno votando per la Medium Authority. Il che non mi piace per niente. Non mi piace proprio per niente. Vorrei che nostra madre morisse, però. Sono un po' un figlio bastardo. Mi voglio che mia madre muoia per poter editare tutti questi bei regni. Ehm... Diek. Gain one of diplomacy. Alive! Ha perso il tratto illess. Perfetto. Allora, vediamo se questi vassalliano di nuovo dei claim. Chi è il cazzo è sto qua? Perché si è arrivata alla mia corte? De Bourgogne. Strong claim on King of France. Seriamente? ti posso far sposare con... Allora, arrange. Facciamo un bel matrimonio tra di noi. Non abbiamo nessuna fottutissima figlia che possiamo far sposare con questo tizio. Giusto per prendergli il nome Savoia. Il figlio era il re di Francia. Ecco, è il figlio del vecchio re di Francia, questo. Però non ci potrebbe molto se non è della nostra dinastia, quindi non sarebbe neanche mettere sul re di Francia. Quanti uomini ha il re di Francia, oltretutto? Il re di Francia ha 6.000 uomini, quindi nemmeno tanti. L'Aquitania. Non abbiamo nessun claim. Chi è che vediamo un po'... Clamance. Beatrice. Spymaster in Zirland. De Savoie. Eh no, perché non vuole sposare un fottutissimo Kingsman. Neanche come matrilineano. Non c'è modo di fottere sta vecchia. Peccato. Vediamo chi sono gli altri claimant al regno di Francia. Wow, ce ne sono parecchi. Goldwyn o Godwin. Wow, ce ne sono davvero parecchi qua in questo caso, eh però. scusate. Carlo Magno Lotharingia. Scusate, c'è la Lotharingia. Scusate se mi son perso la Lotharingia. È stato fondato il regno di Lotharingia e non mi è stato detto nulla. Love Lorraine. Io non vedo nessun regno di Lotharingia. Ah, forse è questo? No, questo è Luxembourg addirittura. Per caspio è Lotharingia. Andiamo... Andiamo a vedere subito. Ah, no, è sparito. Eh, no, è qua. Carlo Magno. Chi non Lotharingia? Ah, ma è morto. Ma vai a cagare, è morto. 30 anni... 300 anni fa è morto. Nel 711. 771. Ma vai a cagare. Vai proprio a cagare. Allora, allora, allora. Special Minor Titles. Possiamo mettere dei comandanti. Eh, sì. Tu sarai il mio comandante. Sono contento così. Tu no, tu sei più un caprone. Mettiamo lui che è meglio. Ok. Noi stiamo comandando le truppe a capua. Per quale strano motivo siamo a capua? Basta comandare le truppe per qualcuno che non ci interessa. Visto che questo quiz qua non si decide a morire. Aspettiamo ancora a fine del... Un anno. Poi se non muoio cambiamo... Oh, oh. Guardiamo uno di Diplomasi. Mi piace. Charles of Ivrea. Che ha un claim sul conte di Borgogna. E su... Schwemben. Cos'è Schwemben? Sarà qualcosa qua. Fraticelli. Vabbè, finché i fraticelli non sono solo miei... Oh. Nicholas become a Knight Templar. Facciamo di dare un Cavaliere Templare. Nicholas di Disa poi... No, vai! Giovani Cavaliere Templari. Va a morire ammazzato. Special Action Possible. Chi è che ci vuole uccidere? Chi cazzo è che ci vuole uccidere? Io non voglio andare into hiding. Non c'è un motivo. Io vorrei uccidere anche mia moglie. Perché mia moglie è una caprona. Hai fatto tre figli. Sono contento. The smallest man make world. No, no. Non diventa il codardo George. Chi cazzo sei George oltretutto? Ah, sei il figlio... Di Vincesto. Sì, diventa un codardo. Ok, qua l'impero romano intanto batte i fraticelli. Ottimo. Valarie Forcing. Vabbè, ci sono altri fraticelli per voi. Sarà che romano imperatore. Venghino, venghino. Intanto qua le votazioni come stanno andando. 98. Sono fermi. Dove erano? Il che mi piace. Tanto un'altra cosa che ho visto di sfuggita è che siamo... No. Siamo il vassallo più potente. Il che non mi può che far piacere. Oltretutto avremo anche l'unione della Toscana. Quindi saremo davvero potenti. Ok, buono. Eh, geniacci voglio batterli in montagna. È vero? Avete vinto o avete perso? Penso che abbiate vinto. Sono contento per voi. Che è questa battaglia qua? Savoia, Brescia, Narmi. Boh. Cazzo è stai qua? Sarà una tre rivolta. Allora, abbiamo una pacchetta di soldi. Costruiamo qualcosina qua. Anzi, la nostra capitale è in Savoia. Pikmin, Light Cavalry. 75 contro 60. Facciamo 75. I numeri sono sempre da nostra parte. Teresa, Teresa. Sei una della mia dinastia. Ramiro, Pedro. Chi cazzo è questo? Barone, un barone. Nessuno che mi possa interessare. Di nuovo papi che muoiono, papi che vengono, papi che vanno. Bassalli. 91. Abbiamo ottime relazioni con tutti. A parte quelli religiosi che... Solo un paio. Però questo ora ce lo possiamo comprare. Questo ci possiamo comprare la sua fedeltà. Anche di questo. Sand e Gift. Questi sono già tutti nostri. Anche se per poco questi non ce li possiamo comprare. È un peccato. È l'unico che vorrei che mi volesse un po' più bene perché votasse chi gli dico io è questo. Lo invito a fare una festa privata, il buon vecchio prete. Ma vai a cagare. Thanks for the invitation. Sei più un porco. Come perdi il tratto giusto. Interessava questo tratto, porca della miseria. Adesso abbiamo il regno che è troppo grande. Porca della puttana. Bene, senti, tu non vuoi morire? Che è un peccato per non ucciderlo con tutto questo plot power. Ma fa lo stesso. Uccidiamo nostra moglie immediatamente. Uccidiamo nostra moglie che è una caprona. Uccidiamo nostra moglie. Vediamo chi viene. Un bel po' di gente viene. Ottimo. Venite signori, venghino. Ok, facciamo ritornare il nostro simpatico amico qua. Dov'è? L'è sparito, è sparito. Vieni qua. Ok, così mi incrementi il plot power. Spero muoia sto cazzo imperatore vecchio. Ok, proviamo il plano. Sono dei vecchi di merda. Morite un po', così non approvate la legge. Ok, successo. Perfetto. One weak lane can be pressed. No, grazie. Vorrebbe dire mettere questi tizi sul regno di... Questi qua non mi interessa. Mia moglie è morta. Perché ce la dà che non è ancora morta? Oh, la... In circostanze sospette. Allora, sposiamo. Vediamo, cerchiamo... Search genius. Non mi fa... Non c'è nessun genio. Oh, cos'è sto tratto? Lips. No, grazie. Non c'è nessun genio in giro. Qualche... Qualche... Quick. Questa qua non sarebbe male. 12 anni. Abbiamo una... Danese. Che è anche ottima come... Come... Questa è una cosa che mi... Forse non so se ho detto all'inizio del video. Io ho completamente... Non ci sono donne geni in giro comunque. Ho comunque saltato il giochino di cercare di avere i tratti nella mia famiglia. A mantenere i tratti genetici all'interno della mia famiglia. La cosa di cui mi sono completamente dimenticato di fare. È un casino che non giocavo. Ok. Nessuna alleanza da questi. Invece se le metto per rank... Ci sarebbe Baroness. Tutta sta gentaglia. Vabbè niente alleanza. Cerchiamo qualche Quick che mi piace. Perché non mi fa trovare... Sono troppi i tratti. Ok. Eccole qua. Allora erano queste. Quelle con i tratti Quick. Però ce n'era una. Mi piaceva. Eccola qua. Runa. Temperata. Proud. Quick. Brilliant Strategist. Sposiamola. Vai. Sì. Meno 100 perché sposo. Non mi interessa. Magari facciamo qualche figliolo. E ci viene fuori uno intelligente. Ok. Abbiamo tolto la festa. Non voglio andare in hiding. One claim che mi presta. Guadagniamo il prestigio che abbiamo perso. Ok. Adesso dovremmo... No. Ancora non siamo a posto per... Ah sì. Adesso vedete che il nostro death man si è tornato a posto. Sarebbe davvero se facessimo un figliolo. Ray Quick. Sveglio. Se ce l'ha il tratto Quick. E anche John è moglie mia. Quindi divertiamoci. Allora. Santuà. Proviamo a riuscidere Santuà. Ray. Ray. È un erede. Principessa del Sacro Romano Impero. Guarda che brutta. Sì. Va bene. Sposati. È morto l'imperatore? No. Pensavo fosse morto l'imperatore. Sposati. Con quella zoccola. Vediamo se è nostro figlio. Ok. Non ha nessun tratto. Ha un claim però su Shwabia. Perché non posso dichiargli guerra per mettere mio figlio sul regno di Shwabia? Shungao, Shungao. Forse deve diventare Maggiorenne? Vedete? Mio figlio. Perché non posso mettere vittorio sul regno di Svevia? Vorrei tanto ripressare perché un Savoia arriva. Forse deve diventare Maggiorenne probabilmente. Deve diventare Maggiorenne probabilmente. Perché qua non ci fa in alcun modo far nulla. Quindi dovrà diventare Maggiorenne. Veduco. Tanto abbiamo ancora una tregua con sto cazzo di Shwabia. Questo è il quacero lì. Riesce a nave. Non so cosa stiamo facendo. Non ci interessa. Dobbiamo trovare un modo per però mettere il nostro figlio sul trono. E un modo sarebbe poter uccidere il nostro fratello. In modo più veloce proprio. Anche se qua vedo poche persone intenzionate a Gionare. Tutti lo avano mio fratello. Non è possibile. Non è possibile che mio fratello sia così felice. Nessuno vuole Gionare contro mio fratello. E io sono un re però. In prison. 100% Meno 40% Con tutti i miei massagli. Non sarebbe male come cosa. Request excommunication? No. Non è che i miei massagli mi vogliono molto bene. Però. Facciamo così. Ah. C'è un nuovo vescovo di Valois. Send gift. Magari cambiamo anche il voto. Che ne dici di votare per qualcuno. Che non sia mio fratello. Allora. Travelling poet com E bard. Raxed. Più un diploma. Si meno 5. Facciamolo rimanere per quanto cazzo vuole. Thank you. Ok. In te adesso tu Verdun. Doresti essere. Molto contento. Come perché non voti mio figlio? Che ne pensi di votare mio figlio? Oh. Finalmente. Qualcuno vota di nuovo mio figlio. Abbiamo sistemato. Ed è proprio Valois. Nemmeno Verdun. Verdun ha dei claim. Si. Ha un claim su Vermandois. Quanti uomo mi ha re di Francia? Eh. 12.000. Ce lo sogni. Nel frattempo. Chi sta qua a Vienna. Non sta entrando il claim. Proviamo a prenderci la Provenza. Magari. Sarebbe male. Non sarebbe affatto male. Ancora andare in hiding. No. Non mi interessa andare in hiding. Voi non state facendo sesso. E non fate figli. Diamo un regalino a nostra moglie. Così che sia un po' più contenta. E ci ami un po' di più. Come buttarvi i soldi. Infatti ne guadagniamo 20 al mese. Quindi possiamo permettercela. Do you want to build another fort? No. Vorrei costruire magari un new holding. Trade port? No. Wow. 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 Piano piano piano. Calma. Ci vuole calma. E' sangue freddo. Calma. Yeah. Abbiamo ereditato tutto questo po' di roba. One title can be created. Ducato di Modena. One title can be usurped. Cremona, wow This man's too big Perché abbiamo anche la Corsica, wow Wow, wow, wow Firenze è diventata nostra Allora Wow, wow, wow Adesso guarda, l'eredità diventerà un casino Duco, sono Spoleto Spoleto è diventata tua, io ti dichiaro immediatamente guerra Con quei mille uomini che ti ritrovi Claim Spoleto Cioè proprio, non hai capito nulla Cioè proprio guerra intestina fra fratelli Oppure ti provo a uccidere Plot to kill, vediamo No, nessuno del suo reame Vuole ucciderlo ancora Vediamo se posso in qualche maniera usurpare No Comunque abbiamo con successo Ineditato anche la Toscana, wow Adesso siamo diventati leggermente potenti Sono curioso di vedere 10.000 uomini, wow Siamo decisamente, mi sa, il vassallo più forte Siamo decisamente il vassallo più forte Sì, hanno aumentato dunque anche qua però Siamo al 30% della potenza del Kaiser Ducati nuovi possono essere creati Venezia è indipendente Quindi potremmo anche dichiargli guerra Qui questo qua di Padova Conte Raffaello di Padova Questo qua chi è? Conte di Trevi Cioè sono tutti A chi fate capo voi? Ah proprio all'imperatore L'imperatore è il duca di Verona Ai 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 no Dobbiamo aspettare che muoia E nulla Direi che per questo episodio è tutto Abbiamo ereditato con successo la Toscana Ci manca Spoleto E questi territori qua Ma li avremo molto presto Direi che per questo episodio è tutto Un saluto alla prossima Ciao ciao